L'Ital Tony Lui era pazzo per i suoi nipoti, amava raccontare loro della sua vita sul palco ma anche di tutto quello che c'era dietro le quinte e di come era stata la sua gioventù in un'epoca diversa da questa La figlia cristiana lo ha soprannominato nonno Rocchi e il suo pubblico sicuramente lo sa bene Le nuove generazioni avranno modo di conoscere le sue opere e la sua vita in futuro? La figlia ci spera soprattutto grazie alla Daniele che oggi ha voluto ricordare il padre Edda Hopper. Cristiana e il suo racconto. Little Tony, la figlia cristiana Ciacci protagonista a Storia Italiana Sono trascorsi cinque anni dalla scomparsa dal celebre cantante italiano ed è stato pubblicato in esclusiva dalla trasmissione condotta da Eleonora Daniele un suo audio sulla gioia di diventare nonna, se ci fosse stata Giuliana, sarebbe stata un'altra cosa Però il fatto che la mia piccola crisi ha messo al mondo un figlio così, è stata un'emozione Quando è nata Martina ero già abituato, ride, ndr. e ha poi ammesso, noi abbiamo poca attenzione per i figli, ma tantissima per i nipoti Cristiana Ciacci ha confermato la grande passione del padre per i suoi nipoti, lui stravedeva per i nipoti, è stato un papà un po' assente, ma molto presente per i suoi nipoti E' come se attraverso i suoi nipoti volesse fare ciò che non ha fatto per me. L'aneddoto su cuore matto Una delle canzoni più celebri di Little Tony è Cuore matto, scritta 52 anni fa, e la figlia ha rivelato un aneddoto, lui aveva appena finito di cantare e il grande Domenico Modugno gli ha detto che aveva una grandissima canzone e che avrebbe spaccato Cristiana Ciacci ha portato avanti l'eredità artistica del padre Little Tony, proseguendo la carriera da cantante e affiancandolo in passato anche sui palchi Recentemente, intervistata da Sabato Italiano, aveva parlato così del suo rapporto, era un papà particolare, straordinario dal punto di vista artistico, ma per me oltre che un grande professionista era mio padre Ogni tanto discutevamo un po', ma lui giustamente per fare il suo mestiere era costretto a lasciarmi solo Il nostro è stato per un po' un rapporto difficile perché per come li volevo bene lo volevo più vicino a me Andando avanti l'ho perdonato e ci siamo ritrovati Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like oh 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 Grazie.